Buonasera e buon Natale innanzitutto. Buon Natale, grazie. La situazione del tempo natalizio in Italia si presenta non molto diversa dagli anni passati, soprattutto dal punto di vista economico. Situazione caratterizzata, punteggiata dai soliti eventi, dai soliti fenomeni ricorrenti. Masse di acquisti rateiformi su tutta la penisola, soprattutto sulle regioni settentrionali. L'anticipone natalizio proveniente dal doppio stipendio interessa soprattutto la tredicesima. Si sono avute sì delle fugaci temporanee schiarite nel bilancio familiare, ma purtroppo adesso si avvicina a una depressione piuttosto profonda, rilevante. La perturbazione si farà sentire soprattutto sui prelievi superiori alle 200.000 lire. Sui capi di famiglia si addensano purtroppo preoccupazioni a carattere instabile. Si prevedono inoltre mariti agitati al sud, scossi o localmente molto scossi al nord. Banchi di tratte in Valpadana. Conclusioni. Dopo la pioggia di regali, dopo le feste, si prevede che la situazione tenderà decisamente a cambiare. Come ho detto, a cambiare? Sì, sì, a cambiare. A cambiare. A cambiare. Bravo, Bernardo. La ringrazio per essere sceso con tanta disinvoltura dalle nuvole così meteorologiche, così alle tavole di canzonissimo con tanto spirito.